Leonardo DiCaprio Nonostante la recente separazione dalla storica fidanzata Camilla Morrone, l'attore premio Oscar sarebbe già tornato sulla piazza mettendo gli occhi su diverse giovani top model. Si dice che DiCaprio abbia una particolare passione per le under 25, ma questa volta potrebbe aver fatto uno strappo alla regola. Le voci sul presunto flirt DiCaprio ad Id si alternano da settimane, ma finora i due non sembravano proprio destinati a diventare una coppia. Uswek Lee aveva persino azzardato che nonostante le attenzioni dell'attore, la modella non avrebbe mostrato alcun interesse nei suoi confronti. Pur essendosi di recente incontrate durante un evento a Katea o Marmont. Sono solo amici. Lei non vuole nulla di romantico con lui per ora, ha rivelato una fonte al magazine. Ma People assicura che la versione è un'altra. DiCaprio e Gigi Hadid negli ultimi giorni sarebbero stati visti uscire insieme per le strade di New York. Dove la modella vive con la figlia Kai? Si stanno conoscendo, racconta un insider a People. Leo sta decisamente inseguendo Gigi. D'altronde la rottura con la sua storica fiamma Camilla Morrone è ancora molto fresca. Appena due settimane prima People ha parlato della fine dell'amore per la coppia che si frequentava da quasi cinque anni. La scelta di tornare single per la star di Hollywood ha aperto una particolare riflessione su magazine e tabloid. Nessuna delle donne che hanno avuto una storia con l'attore sono rimaste al suo fianco dopo aver compiuto 25 anni. Come la sua ultima fidanzata infatti, anche Gisele Bundkian, Barre Feli e Blake Lively, nessuna di loro aveva superato i 25 anni. Nel periodo in cui frequentava l'attore, ha fatto notare il Mirror. Nel periodo in cui frequentava l'attore, ha fatto notare l'attore. Nel periodo in cui frequentava l'attore, ha fatto notare l'attore. Nel periodo in cui frequentava il